ciao a tutti ben tornati sul canale benvenuti in questo nuovo video allora visto che è estate oggi sono venuto a cinecittà world ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza di mascherine distanze eccetera eccetera per portarvi in un'esperienza nuova voglio portarvi a far vedere il volarium il volarium è il cosiddetto cinema volante è una delle attrazioni più belle di cinecittà world se non l'avete mai fatto vi consiglio assolutamente di venire a provarlo perché è veramente qualcosa di incredibile praticamente il pavimento sotto i vostri piedi scompare e quello che verrà proiettato sono delle immagini in questo caso che riguardano leonardo da vinci e praticamente lo schermo è enorme quasi a 360 gradi per cui è un'esperienza unica ed irripetibile per cui se non lo conoscete vi consiglio assolutamente di venire a vedere il volarium di cinecittà world per cui procediamo ok eccoci qua al volarium entriamo e andiamo a vedere come funziona dobbiamo praticamente fare il percorso fare ovviamente la fila per entrare e poi ci troveremo all'interno ovviamente vi risparmierò tutto questa questa attesa e entriamo direttamente a vedere di che si tratta io sono il il mio compito è quello di creare mondi virtuali in cui farvi entrare grazie a volarium il cinema volante stiamo salendo verso il cuore piccolato in cinema volante un'altra parte Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.